I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo durante i controlli per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti nell'area metropolitana hanno arrestato un individuo in flagranza di reato sequestrando quattro armi da fuoco, tra cui una mitragliatrice e sostanze stupefacenti. Impegnati nella vigilanza del territorio, durante un pattugliamento nel quartiere villaggio Santa Rosalia, hanno notato un uomo allontanarsi frettolosamente alla vista della loro auto di servizio. Decidendo di sottoporlo a controllo, i militari hanno scoperto che il 21enne palermitano, già noto per precedenti penali legati allo spaccio di stupefacenti, aveva con sé alcune dosi di hashish. Vista la situazione, i finanzieri hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, rinvenendo ulteriori 23 grammi di cocaina e crack. Inoltre, la perquisizione ha portato alla scoperta di un deposito di armi pronte all'uso, una pistola mitragliatrice americana Sights Spectre M4 calibro 9 Parabellum, una pistola semi-automatica Colt calibro 45 e due revolver Smith & Wesson calibro 32 e 38, oltre a 250 cartucce e 5 caricatori. Le indagini preliminari sulle armi hanno rivelato che una delle pistole era stata rubata circa un anno fa da un'abitazione di Palermo, mentre su due revolver erano state abbrase le matricole identificative per renderne più difficile l'identificazione. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato sia l'arresto sia il sequestro delle armi e della droga. Attualmente detenuto presso il carcere Pagliarelli, dovrà rispondere di possesso di un'arma da guerra, di più armi comuni da sparo e di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, crack e hashish. Grazie.